Di fatto il post-editing è tutta una questione di equilibrio fra diversi fattori, è tutta una questione di bilanciare una serie di fattori. L'abbiamo già detto che è un'abilità nuova, è legata all'esperienza, che è diversa dal saper tradurre, abbiamo anche detto che implica delle competenze aggiuntive rispetto a quelle della traduzione consolidate, che sicuramente tutti voi avete già. E quindi in questo scenario, nello scenario del post-editing è fondamentale bilanciare una serie di elementi, innanzitutto i costi della traduzione, questo diciamo è un aspetto che probabilmente non ci interessa direttamente come traduttori, ma interessa prevalentemente le agenzie di traduzione. Bilanciare la qualità di arrivo in relazione alle aspettative del cliente, bilanciare il tempo, il fattore tempo è quello che a noi interessa invece molto direttamente, quanto tempo ci impiego a tradurre quel testo. Il post-editing implica un risparmio di tempo rispetto alla traduzione tradizionale, poi lo vedremo dopo, quindi questi fattori vanno bilanciati. In base alla destinazione e all'utilizzo del testo, del testo tradotto, quindi da chi verrà consultato quel testo, perché verrà utilizzato, per quali scopi, con quali obiettivi, e alla deperibilità della traduzione. La deperibilità ha a che fare con il ciclo di vita del testo, per quanto tempo quel testo verrà consultato soltanto una volta per accedere a quell'informazione, oppure un testo di riferimento che verrà invece consultato più volte. Quindi anche il ciclo di vita del testo ha un impatto sulla scelta rispetto al post-editing o non post-editing e sulla scelta del livello di post-editing da applicare agli output grezzi generati dai motori di traduzione automatica. Quindi prima di affrontare o no il post-editing di un testo, devo valutare tutti i fattori che io ho posizionato su questa sorta di bilancia, no? E alla fine capire da quale parte pende la bilancia, se pende dalla parte non post-editing o se pende dalla parte post-editing e se pende dalla parte post-editing, post-editing a che livello. E ne parleremo tra un attimo di livelli. Quindi il primo fattore che consideriamo è la durata dell'utilizzo del documento, ne abbiamo appena parlato, no? Qui ci riferiamo alla deperibilità della traduzione, per quanto tempo quel documento verrà consultato. Esempio, è un manuale di istruzioni che viene consultato una volta per installare, non so, la macchinetta del caffè, poi di tanto in tanto se c'è un guasto oppure un testo di riferimento che consulto più di frequente. Quindi la durata dell'utilizzo del documento. Poi, quelle che definiamo come le esigenze e le aspettative dell'utente, no? Che cosa si aspetta il mio utente finale? Si aspetta un testo tradotto perfettamente, quindi un testo di alta qualità? Oppure ha soltanto bisogno di capirne il contenuto, no? Quindi di capire il senso generale di quel testo. E quindi magari ha bisogno di post-editing minimo o anche solo di un controllo di qualità, no? Sull'output grezzo. Sono tutti aspetti che negozio a monte questi, no? Che devo conoscere a monte prima di effettuare una scelta o prima di decidere se accettare o meno un incarico. Un altro aspetto è la capacità dei lettori o dei destinatari di quel testo tradotto di servirsi del documento. Per esempio, il mio destinatario conosce un po' la lingua di partenza e quindi se non dovesse comprendere perfettamente il testo tradotto automaticamente sarebbe in grado di andare a consultare il testo di partenza oppure no? Quindi che capacità ha il mio lettore, il mio destinatario di servirsi di quel testo tradotto, di quella traduzione automatica, grezza o non grezza, grezza o post-editata? Ok? Quindi questo è un altro fattore che si tiene in considerazione. Poi il tipo di documento, quindi la tipologia testuale, ne abbiamo già parlato prima, diverse tipologie testuali. Oggi sempre più tipologie, no? Si avvicinano a questa tecnica della traduzione automatica e del post-editing. La lunghezza del documento, spesso documenti molto lunghi vengono tradotti automaticamente, si chiede al post-editor di effettuare un post-editing di quel testo, è un fattore che influisce quello. E la cosiddetta visibilità del documento, di visibilità ne parleremo anche dopo perché è un concetto importante. A che cosa fa riferimento? Quel testo che qualcuno ha tradotto automaticamente per me e che io devo post-editare è un testo destinato alla sola circolazione interna. Per esempio, lavoro in una società, ricevo un preventivo da un mio fornitore estero, ho bisogno che contiene una serie di postille, quindi ho bisogno di diffondere, no? Quel documento tra i miei colleghi lo traduco automaticamente e ci faccio magari un light post-editing, no? Quindi un post-editing minimo per assicurarmi, lo diremo tra un attimo, che le informazioni siano corrette. Quello è un testo che rimane a circolazione interna, no? Riferendomi sempre al concetto della visibilità. Un testo che invece viene pubblicato, una pagina di un sito web, un documento ufficiale, quello ha una visibilità esterna, quindi è un testo destinato alla pubblicazione esterna. E questo ha un impatto sulla scelta, sulla tipologia di post-editing che vado a effettuare, una volta che ho deciso di effettuarlo, se l'ho deciso. L'altro fattore sono i tempi di consegna, il tempo, la deadline, no? Che il mio cliente o la mia agenzia mi impone ha un impatto, come no? Sulla scelta rispetto alla traduzione automatica più post-editing o meno. Se ho una deadline molto stretta, il post-editing della traduzione automatica su certe coppie di lingue, per certi tipi di testi, eccetera, mi può garantire una velocizzazione del processo, quindi un aumento della produttività. Quindi anche il tempo di consegna ha un impatto su questo. E poi la qualità dell'output, che come vedete ho messo in grassetto, perché, che cito per ultima, perché, insomma, ultima ma non meno importante, forse la più importante. La qualità dell'output, come diremo anche dopo, dipende molto dalla combinazione linguistica, dipende anche dalla tipologia testuale, questo l'abbiamo già accennato. Tipicamente, dove l'inglese è presente in combinazione linguistica, la qualità è migliore. In altri casi, dove ci sono lingue più rare, tra virgolette, se così lo vogliamo definire, la qualità tende a essere inferiore. Quindi prima valuto la qualità dell'output, poi magari prendo in considerazione tutti gli altri fattori e poi decido se il mio cliente o l'agenzia di traduzione, forse più tipicamente, mi invia un testo tradotto automaticamente, dove la qualità dell'output è pessima. Io come professionista, una volta che valuto la qualità, tramite una valutazione umana informale, e mi rendo conto che fare il post-editing di quel testo sarebbe controproducente e ci impiegherei più tempo a fare il post-editing rispetto a fare una traduzione umana, una traduzione con altri tool, con altri strumenti. Noi oggi qui parliamo solo di traduzione umana, ma esistono tante altre tecnologie, tante altre tecniche, tanti approcci. Quindi in quel caso è chiaro che probabilmente se fossi io mi rifiuterei di effettuare il post-editing, perché è oggettivamente pagato di meno rispetto alla traduzione tradizionale, e però in quel caso se la qualità è così scarsa, ci impiego di più a fare il post-editing rispetto a fare una traduzione in maniera tradizionale o con altri strumenti, con altri metodi. Quindi la qualità dell'output ha un impatto fondamentale sulla mia decisione. Ok, quindi come dicevamo all'inizio, prima di affrontare o no il post-editing di un testo, valuto tutti questi fattori e una volta che ho visto da quale parte prende la bilancia, posso prendere la mia decisione. e poi dicevamo all'inizio, Grazie.